Joe Jonas e Sophie e Turner si sposeranno in segreto a Natale? Tutti i dettagli Joe Jonas e Sophie e Turner Matrimonio, la rivelazione di una fonte molto vicina alla coppia La storia d'amore tra Joe Jonas e Sophie e Turner procede a gonfie vele Da quando hanno annunciato al mondo la loro intenzione di volersi sposare, le attenzioni dei loro fan sembrano essersi concentrate tutte su di loro Nessuna data ufficiale ancora però per quanto riguarda la cerimonia anche se, di recente, qualcuno molto vicino alla coppia si sarebbe lasciata sfuggire alcune importanti dichiarazioni al riguardo A rendere pubblica la notizia è stato il magazine Life Style che, dopo aver parlato a lungo con la propria fonte, rimasta anonima Ha rivelato l'intenzione della coppia di volersi sposare nel mese di dicembre. Vogliono una cerimonia intima, con pochi amici e parenti, lontano dai riflettori della ribalta Joe Jonas e Sophie e Turner, cerimonia sotto l'albero prima del 2018 La coppia vorrebbe sposarsi nel Warwickshire, contea inglese dove Sophie è cresciuta Un paesaggio incantevole, l'ambiente ideale per un romantico matrimonio invernale, ha detto la fonte citata dal magazine Sappiamo inoltre che la coppia trascorrerà insieme proprio le prossime vacanze di Natale. E che, inoltre, a loro si uniranno anche i fratelli di Joe e Maisie Williams, collega amica di Sophie Alla star di Game of Thrones spiacerebbe molto sposarsi a Natale e il suo periodo preferito dell'anno ha detto la fonte sentita da Life Style perché è tutto basato sulla famiglia e sul trascorrere del tempo con le persone che ami Ma per Joe Jonas e Sophie e Turner è ancora troppo presto per parlare di matrimonio? Se la coppia convolerà o meno a nozze prima del 2018 lo si saprà solo quando i due decideranno di rendere tutto ufficiale Certo è che gli indizi sembrerebbero tutti confermare l'ipotesi del matrimonio segreto. È forse solo un caso che famiglia e amici di Joe Jonas e Sophie e Turner stiano effettivamente progettando di passare le prossime vacanze di Natale insieme? I due si sono fidanzati solo da pochi mesi eppure, nonostante ciò, il loro matrimonio potrebbe essere più vicino di quanto immaginiamo Ciao!